Adesso di qua. Oh, genera, avete sentito questo rombo? Che sta piramide vecchia, che sta pericolosa, che sarà stato un ascossi assestamento, l'indagolo una portante, coi? No, 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 questo è un dissestamento del colon di Ombroni. Un colonne chi? Salta la quaglia. Sì. Ho un problema serio. Oui, genera, e come posso aiutarvi? Mi sto cagando ad osso. Ehm, non credi potervi aiutare, genera? Ma mi aiuti, procurando più un cesso, che non sia sua sorella, però. Ehi, e basta, sono fatta mia sorella, genera, mi piace. Ma aiuti, quando manca la fine del giro? Io non ho cominciato, minimi ci sono tre ore. Tre ore? Eh, ma che questo giro sarà una cagata. In che senso, mo? In tutti i sensi, in tutti i sensi. Oh, il guagaggio passato, ma perché? Genera, qua c'è un cesso. Aspettate qua, eh. I faraù non avranno avuto, no? Eh, vabbè, vi faccio a prendere, aspettate qua. Ecco qua, genera, qua dietro, eh. Eh, non è il massimo, ma... Ma è la tua letta. La tua letta? Ma insomma, si può arrangiare, eh? Ah, allora, allora guardi, guardi, eh. Guardi, ma che c'è guarda? No, 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 non guardi, faccia il palo. Sì, signor, faccia il palo, sto qua fuori, non vi preoccupate. Ah, 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 ah! Oh! 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 Eh? Ammazzati i faraoni, oh! Ma che se so a mangiare? Dopo tre mila anni si sente ancora la puzza da merda! Circolare! Circolare! È in corso una parazione dei carabinieri! C'è una fuga di gas! Tira! Andate in fila! E se senti? Aletta rindato che qua dentro non si respira! Ma non senti che... General, come va? Avete bisogno di qualcosa? E qui la gente vuole entrare? E che c'è già fa? Salta la quaglia! Bravissimo! Ho visto chi anche ha messo la carta igienica! Complimenti! Complimenti! No, bravo! Ma che fogna! Mamma mia, ma come siete mangiando? A questo punto della visita, vi trovate di fronte all'unica mummia ancora perfettamente conservata. Gli antichi egizi credevano che solo se il corpo del defunto riceveva cure... ...li sarebbe stato consentito... Questa me la porto però, eh! Eh, caro, me non si sa mai! Dopo il discesso, una perfetta... Rotolone formato famiglia! Dieci piramidi di morbidezza! Ecco! Per preservarne l'integrità, vi invito a non avvicinarvi troppo, capisco il vostro stupore, nel vedere dopo millenni un così perfetto stato di... conservazione! Hai visto? Sì! Fino a poco fa! Ma pazzesco! Lei è un profanatore! Ma si rende conto? Quella mummia riposava da 4.000 anni! E lei ci si è pulito il culo! Solo 5 minuti! I.M. Generale dei Carabinieri! Italian, pizza, spaghetti, Roma, Colosseo! Allora vado a cacare al Colosseo! Allora vado a cacare!